quelli di campioni dario continua il successo delle fiamme gialle anche con l'otto campioni d'italia andrea tranquilli ai nostri microfoni un capovoga doc che ha traghettato l'ammiraglia azzurra agli europei a quella fantastica medaglia che tutti ricordiamo perché ancora molto fresca e qui alla vittoria del titolo italiano quali sono state le sensazioni di oggi stato un equipaggio questo delle fiamme gialle creato in meno di una settimana ci sono ragazzi sopra come gabriele gagna che non ha mai gareggiato nell'otto dunque ci siamo applicati bene tutti quanti per raggiungere questo successo che ci tenavamo ecco sei noni di questo otto aveva vinto il campionato anche nel 2011 tu nel 2011 ti laureavi campione italiano con l'ammiraglia delle novità ma anche tante riconferme per riuscire a essere protagonisti l'otto l'avete ovviamente voluto molto qual è il segreto e l'affiatamento delle fiamme gialle segreto per quest'otto è che ci siamo uniti noi prima di uscire nell'otto diciamo sempre che l'ammiraglia è una squadra è una squadra più della squadra di balla a volo che di balla canestro e ci diciamo che uniti possiamo fare tutto non ci sono limiti ma se solo solamente uno pensa un'altra cosa che non sia di mortare la pallina più avanti di tutti c'è il rischio di fare la frittata e com'è avere dietro sette scalmanati come i tuoi compagni la difficoltà iniziale è stata appunto tenerli abbata bisognava tirare le briglie perché erano veramente vogliosi di dare tutto il cento per cento in acqua complimenti andrea tra qualche istante la premiazione forza fiamme gialle grazie